Musica Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale che si occupa dei principali temi trattati all'interno dell'Assemblea Toscana. Quest'oggi cominciamo con la crisi Covid perché è stata approvata all'unanimità una risoluzione della Commissione Aree Interne per fornire maggiori sostegni soprattutto a livello statale per le zone maggiormente colpite da questa situazione legata all'emergenza pandemica e con la suddivisione in fasce da parte del Governo. Musica Nel caso in cui siano le Regioni a dichiarare in funzione dell'accontenimento del contagio zona rossa alcuni territori siano previsti in modo chiaro i meccanismi di aiuto e sostegno statale in favore delle attività produttive e commerciali che ricadono in quei territori, lo chiede il Consiglio regionale in una risoluzione della Commissione Aree Interne presieduta da Marco Nicolai che impegna la Giunta Toscana ad attivarsi nei confronti del Governo e del Parlamento sollevando la questione anche in conferenza delle Regioni. Si tratta di quasi 100 comuni che in queste ultime settimane sono state interessate ci sono piccole imprese che hanno quindi sofferto una situazione ancora più pesante rispetto ad altri territori e chiaramente tutto questo si amplifica nelle zone interne e montane dove ci sono dei problemi preesistenti alla pandemia e adesso magari l'applicazione di misure restrittive doverose, necessarie ma che devono essere accompagnati da meccanismi di ristoro chiari e definiti e solo il bilancio dello Stato ha la capacità di farvi fronte in modo adeguato come chiedono appunto questi territori. Le zone rosse funzionano se vengono fatte con criterio e se vengono fatte per tempo perché purtroppo abbiamo visto come in alcune zone abbiano anche funzionato ma in altre meno quando si fanno queste operazioni per cercare di mantenere comunque tutto il resto della Regione aperta cercando di andare a contenere il contagio per noi è qualcosa che è positivo perché più riusciamo a tenere territori in grado di poter lavorare aperti e di farli vivere e meglio è certo è che devono essere fatte per tempo in maniera oculata a volte anche se i sindaci non sono d'accordo voglio dire Gianni dovrebbe anche un po' imporsi per andare proprio a salvaguardare i comuni limitrofi quindi noi pensiamo che possa essere una strategia certo abbiamo visto che nell'ultimo caso non è stata risolutiva perché poi la Regione è diventata totalmente rossa probabilmente perché non si è lavorato per tempo laddove c'era la necessità abbiamo temporeggiato e temporeggiare se uno temporeggia allora anche le zone rosse non servono a niente o vengono fatte coi tempi in modi giusti o altrimenti farle in ritardo non serve più Approvata all'unanimità dall'Assemblea Toscana anche una mozione che impegna la ridiscussione della responsabilità penale per quanto riguarda il ruolo dei sindaci La normativa sulla responsabilità penale dei sindaci deve essere rivista Il Consiglio regionale sostiene l'iniziativa promossa dal Presidente di Anci Nazionale il Sindaco di Bari Antonio De Caro e approva all'unanimità una mozione presentata dal Partito Democratico La mozione impegna la Giunta regionale a sostenere in ogni sede utile l'appello dell'Associazione dei Comuni sottoscritto da migliaia di primi cittadini compresi molti sindaci toscani in ogni schieramento politico a conferma della necessità di procedere a livello nazionale ad una revisione in tempi rapidi della normativa Il fatto scatenante è quello di Piazza San Carlo a Torino dove la sindaca Chiara Appendina è stata condannata per quello che è avvenuto il 3 giugno del 2017 ma di fatti come quello che riguardano la sindaca di un grande comune ce ne sono migliaia ogni anno in tutta Italia proprio perché i sindaci sono in trincea, hanno responsabilità infinite e hanno talora anche attribuite delle competenze gestionali che se meglio precisate potrebbero sgravare precisare meglio tra l'altro gli incarichi dentro la pubblica amministrazione dal punto di vista tecnico e dal punto di vista amministrativo e sgravare gli amministratori da un fardello troppo pesante perché spesso a queste competenze formali non corrispondono poteri sostanziali e viceversa C'è un'azione legislativa da fare non per deresponsabilizzare nessuno i sindaci non chiederebbero mai questo non lo chiederebbero neanche i cittadini ma per distinguere bene tra indirizzo politico-amministrativo e gestione delle cose sapendo che il sindaco rimane il responsabile legale dell'amministrazione ma che sulle grandi questioni gestionali e sulle piccole questioni gestionali un sindaco spesso oltre a non avere competenze non ha nemmeno la facoltà di poter incidere veramente Il messaggio deve essere chiaro Il governo deve farsi carico sotto questo aspetto di intervenire modificando il testo unico degli enti locali perché oggi lasciare esposti gli amministratori a responsabilità ripeto che sfuggono anche proprio dalla loro armi ambito di controllo rischia poi di disincentivare anche l'impegno soprattutto dei giovani nell'attività amministrativa Oggi non è facile fare politica non è facile soprattutto assumersi le responsabilità che governare un territorio implica ed è necessario secondo noi che ci sia una proporzione rispetto all'impegno che viene chiesto sui sindaci ai sindaci quotidianamente sul territorio nell'affrontare le emergenze rispetto a quello che sono le tutele che oggi li lasciano troppo esposti Questo è un messaggio che vogliamo mandare appunto al governo centrale perché gli enti locali ritornino ad essere al primo posto nella politica nazionale Sindaci, amministratori debbono essere considerati in un'ottica di riguardo non si può pensare ai comuni solo per scaricare sui sindaci responsabilità ma devono essere messi nella condizione di lavorare e di avere anche le risorse necessarie per investire sui territori È troppo facile a volte lasciare soli chi amministra e poi appunto lasciarli poi in balia di quelli che sono eventi e responsabilità che ripetiamo talvolta non sono loro ascrivibili quindi occorre mettere mano immediatamente al testo unico degli enti locali Parliamo anche di ambiente in particolare di geotermia con alcune modifiche al piano che riguarda le aree non idonee nella nostra regione La proposta di delibera che modifica il piano ambientale ed energetico regionale per l'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte geotermica è stata approvata a maggioranza in aula Si tratta di una nuova adozione dello stesso piano presentato nella scorsa legislatura ad eccezione della relazione ambientale e la sintesi non tecnica che erano state pubblicate in modo incompleto C'è stato un errore da parte degli uffici è stato pubblicato il PAER il piano dell'ambiente ed energetico regionale con degli allegati che tecnicamente non erano definitivi il che ha costretto a revocare quella delibera a riassumere oggi la adozione di quella parte di piano che peraltro aveva già avuto molte osservazioni da parte dei comuni perché i comuni sono molto sensibili al tema perché naturalmente si tratta di impianti certamente importanti certamente legati a una forma di energia che non inquina ma che ha un impatto sul territorio e quindi attraverso anche la discussione in commissione abbiamo chiesto che l'amministrazione regionale tenga comunque conto delle osservazioni già pervenute e che soprattutto siccome si riapre il termine per le osservazioni coinvolga i comuni in maniera attiva non limitandosi soltanto alla pubblicazione sul bollettino ufficiale ma faccia sapere anche ai cittadini oltre che ai comuni che si riapre la discussione sui siti non idonei per gli impianti di geotermia tra l'altro e concludo c'è stata e c'è una discussione molto forte nel Lazio, in Umbria che ha portato anche a contenziosi rilevanti perché ripeto si tratta di impianti che comunque hanno un impatto sul territorio e che nel nostro caso attraverso l'individuazione delle aree dei siti non idonei in realtà però c'è una piccola porticina lasciata aperta perché questo non esclude che piccoli impianti quelli che vengono considerati piccoli impianti cioè al di sotto di una certa potenza possano comunque essere realizzati e quindi per noi la partecipazione dei cittadini e dei comuni è importante e su questo naturalmente ci siamo raccomandati La geotermia è sicuramente una risorsa rinnovabile ma non è lo stesso in tutto lo stivale e non è lo stesso anche qui in Toscana anche a pochi chilometri di distanza tutti conosciamo la situazione molto complessa della geotermia così come è stata sviluppata e come si vuole sviluppare nella miata che è fonte di rischi per la salute ambientale e delle persone come rilevano i comitati ecco perché secondo noi è necessaria una geotermia differente per la miata questo naturalmente non significa che l'atto che è stato presentato dall'allora Ministro Costa non sia valido ma è necessario andare con un approccio sartoriale sui territori laddove un certo tipo di geotermia per esempio quella media entalpia non è ritenuta idonea perché presenta dei rischi lì non deve essere applicata e quello ha ruolo anche della Regione Toscana che si è finora rifiutata di fare Chiudiamo con la cultura e gli spettacoli in Toscana messi a dura prova naturalmente dall'emergenza Covid e dalla crisi scatenata dalla pandemia a questo proposito una spinta arriva proprio dal Consiglio regionale soprattutto per il futuro e il presente dei teatri Un progetto di rete che potenzia il meccanismo delle residenze artistiche della Regione e propone un'azione diffusa in tutto il territorio per sostenere nuove produzioni teatrali e la loro circuitazione l'iniziativa di Toscana Terra Accogliente con le cinque compagnie teatrali vincitrici della prima edizione del Bando è stata presentata in Consiglio regionale si tratta di un progetto unico a livello nazionale per il numero e le caratteristiche dei soggetti coinvolti sono 32 in Toscana le residenze artistiche che operano in otto province con il coinvolgimento di più di 80 spazi teatrali e 65 comuni Questa è una delle cose che mi è mancata di più in questi mesi, in questo anno come a tanti cittadini e a tanti cittadini della Toscana è quella di poter riuscire ad ascoltare a incontrare, a crescere anche grazie al lavoro delle imprese culturali tante donne e tanti uomini non hanno potuto svolgere la loro attività e io sono felice oggi qui di poter dare il via al progetto Toscana Terra Accogliente un lavoro lungo un anno un lavoro fatto con le residenze artistiche che sono risultate vincitrici un lavoro che mettiamo a disposizione la collettività della Toscana noi come Consiglio regionale in questi mesi abbiamo voluto fare la nostra parte insieme alla Presidente Giacchi che ringrazio per l'importante lavoro che sta svolgendo in questi primi mesi di legislatura abbiamo deciso di mettere a disposizione le poche risorse che avevamo frutto dei risparmi, dei costi della politica per dare un segnale, una risposta a quelle lavoratrici e quei lavoratori che in questi mesi avevano subito più di altri effetti della pandemia a breve uscirà un bando sappiamo che è una goccia nel mare sappiamo che servirebbe di più ma noi siamo riusciti a dare tutto quello che in questo momento potevamo per dare una risposta un sollievo ma soprattutto per dire che con la cultura con il teatro con tutte queste iniziative la nostra Toscana davvero può tornare ad avere speranza verso il futuro quindi speriamo a breve che possa ripartire tutto e speriamo che ci sia la possibilità di ricominciare e di ridare questo segnale di speranza e di attenzione alle cittadine e ai cittadini della Toscana Ci piace l'idea di presentare un'iniziativa che è un segno della resilienza e della resistenza di questo territorio e devo dire resistenza e resilienza ci rendono umani insieme alla cultura io sono molto grata agli operatori che l'hanno resa possibile alla rete di tutte le residenze teatrali i centri di produzione le compagnie che hanno lavorato a questo progetto che porterà in scena 5 compagnie avincitrici del bando per 25 repliche complessive con quasi 200 ore di residenze teatrali e devo dire che è un risultato straordinario in un momento così difficile è un bel messaggio che vogliamo mandare oggi dal Consiglio regionale della Toscana a tutta la regione e a tutto il paese sottolinea una grande tradizione pionieristica di attenzione alla residenza teatrale e ai centri di produzione ma anche un'apertura sul futuro perché vorremmo che questi luoghi fossero sempre di più e vorremmo che la dimensione della cultura come luogo di espressione luogo di lavoro luogo di creatività e non solo di ricreazione che è l'elemento ultimo della fruizione dei cittadini fosse più evidente la cultura è lavoro lavoro per decine e decine di persone che abitano questo territorio e che lo rendono più ricco e bello e con questo è davvero tutto la nostra puntata della voce del Consiglio termina qui vi ricordo che potete sempre seguire anche online all'indirizzo www.consiglio.regione.toscana.it tutti gli aggiornamenti tutte le novità riguardanti l'attività del Consiglio regionale l'appuntamento e per la prossima settimana ovviamente sempre su RTV 38 grazie e arrivederci a presto